Anche quest'anno gli studenti del liceo statale Alfonso Gatto sono pronti a scioperare nel tentativo di risolvere una problematica che da anni si presenta al sopraggiungere del periodo invernale. Al ritorno delle vacanze natalizie puntualmente la situazione diviene per gli studenti insostenibile. La temperatura all'interno delle strutture scolastiche dovrebbe essere compresa tra i 18 e 22 gradi come previsto dal decreto legislativo numero 81-2008 ma negli anni precedenti nel liceo di Agropoli si sono registrate temperature inferiori addirittura agli 8 gradi. Così raccontano i rappresentanti di istituto pertanto gli alunni si vedono costretti a frequentare le lezioni tentando di ripararsi dal freddo con cappotti sciarpe addirittura coperte. La causa di tutto ciò sembra essere in parte una gestione non efficace ed efficiente dell'impianto di riscaldamento presente nella sede del liceo scientifico in via Dante Alighieri. Si tratta di un impianto a battiscopa dello stesso tipo presente negli ospedali di recente costruzione che però a differenza di come accade in questi in cui viene acceso 24 ore su 24 nel liceo vengono concesse solo 6 ore giornaliere non sufficienti ad assicurare il livello di temperatura necessario. Agli studenti non resta quindi che scioperare al fine di attirare l'attenzione delle autorità competenti. È un diritto degli studenti avere una scuola calda ed accogliente. Un ambiente freddo provoca inevitabilmente un malessere fisico che impedisce loro di svolgere serenamente e con attenzione le lezioni, afferma il dirigente scolastico Anna Vassallo. Stiamo cercando di trovare una soluzione immediata con la provincia a tutela del diritto allo studio dei nostri studenti. Ma gli studenti del liceo si dichiarano stanchi di dover ogni anno affrontare le stesse problematiche e sono pronti a scendere in piazza per manifestare il loro dissenso ed ottenere la giusta attenzione. Sono dalla parte degli studenti appoggerò a pieno le loro manifestazioni e darò voce alle loro richieste perché non è accettabile nel 2020 non avere una scuola confortevole in cui poter studiare e apprendere senza doversi preoccupare di tali problematiche risponde il dirigente scolastico.